Ciao ragazzi, oggi vi presento la colonna sonora di un film molto famoso che si chiama Profondo Rosso di Dario Argento. Questa colonna sonora ha avuto moltissimo successo e anche oggi si può sentire nelle radio e nelle varie trasmissioni. Dunque è un brano che è diviso in due parti, io adesso ve lo spiegherò in modo più semplice possibile, comunque vi avviso che c'è da studiarlo, è da studiarlo in modo lento inizialmente e poi pian piano si può fare sempre più veloce. Naturalmente alla fine delle esecuzioni che io farò potete trovare la partitura, la base e addirittura comunque mentre che io sono appaiono le note. Inizialmente è meglio studiarsi i due pezzettini e poi dopo li potete mettere assieme. Il primo pezzo è questo qui, ve lo faccio sentire lentamente. Ecco questo è un pezzettino che va studiato lentamente e va fatto per sei volte, lo sentirete nella base. Poi dopo aver fatto questo pezzo all'interno della base c'è un altro pezzettino che sembra quasi una ballata irlandese e qui è abbastanza complicata e ve la faccio sentire sempre lentamente. Poi riprende ancora il motivo che abbiamo fatto all'inizio, quindi buon ascolto, buono studio e buon divertimento. Poi riprende ancora il motivo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.